vicoli in pietra portali e scorci avvolgono lo splendido castello zungori uno dei borghi più belli d'italia antica terra di scambi transumanza e commercio lungo il crocevia del regio tratturo all'ombra del maestoso castello dei susanna arcaiche grotte di stagionatura dove gustare pregiati formaggi lasciarsi cullare da profumi autentici e riscoprire le tracce di una storia antica immersi in verdi paesaggi spiccano i tanti uriveti che danno vita il pregiato olio ravece un prodotto del gusto unico vieni con noi a scoprire sapori e storie straordinarie immersi nella magia di zungoli info irpigna emozioni in viaggio